Quanto sarebbe bello potere vivere in prima persona le avventure dell'eroe di uno dei nostri manga preferiti? Non vi sto parlando di un cosplay, non vi parlo di un gioco di ruolo, ma di un fumetto. Perché? Perché il protagonista del manga di cui vi parlo oggi è uno studente giapponese che batte la testa e si reincarna in un personaggio di Dragon Ball. Sicuramente uno dei manga più famosi di tutti i tempi e questo liceale giapponese batte la testa e si reincarna in Yamcha. Si chiama Vita da Yamcha, questo manga ha fatto parlare di sé quando è uscito in Giappone un po' di tempo fa per l'idea alla base che è alquanto particolare ovvero reincarnarsi in Yamcha. Cosa succederebbe se noi ci reincarnassimo in Yamcha? Non Goku, non Vegeta, non Goa, non gli eroi più potenti della saga, ma un personaggio che col tempo è diventato un po' una sorta di zimbello. Sono stati fatti meme, ci sono le vignette di lui accasciato morto. Perché? Perché, poveraccio, non è colpa sua. All'inizio della storia era anche forte. Se ripensate a quando incontra Goku bambino, cerca di rubare le sfere del drago, poi diventa amico del gruppetto, perché c'è Bulma, mica scemo lui. Però col tempo, dopo i primi tornei Tenkaichi, Yamcha è diventato un personaggio destinato alle retrovie. Perché fra Saiyan, alieni, demoni che vengono da altri universi, insomma, non è che il povero Yamcha essere umano avesse chissà quante speranze di poter sostenere combattimenti alla pari. Lo studente giapponese, protagonista di una vita da Yamcha, però, nel mondo reale, è un grande fan di Dragon Ball. Conosce tutta la saga, ha letto tutto fino alla fine e decide di usare questa sua conoscenza, questo suo sapere come vanno le cose, per cercare di cambiare il destino di Yamcha. Si ritrova nel corpo di Yamcha, la storia inizia all'inizio della saga di Dragon Ball, quando c'è Goku bambino, lui si ritrova nel corpo di Yamcha alla fine della prima ricerca delle sfere del drago, quando Goku si trasforma in scimmione per la prima volta. Ecco, lì ha inizio la storia di vita da Yamcha e questo studente giapponese si dice, ma io adesso cambio le cose, perché non voglio vivere la vita di Yamcha emarginato sociale. Io so come cambiare le cose, aspetta un attimo, ma se io invece che fare la bella vita con Bulma vado ad allenarmi anch'io come Goku dal maestro Muten, cosa succede se vado ad allenarmi nello spazio? Aspetta un attimo, ma io so che Yamcha in quel contesto morirà. Cerco di prevenire quella cosa, mi alleno in modo da poter sconfiggere quel nemico che so che le suonerà di santa ragione a Yamcha, oppure schivo una situazione particolare, perché? Perché conosco il futuro. Insomma, so come andranno le cose, quindi cerco di dare una vita a Yamcha più dignitosa di quella che gli ha dato il maestro Akira Toriyama, perché si è concentrato su altri personaggi Toriyama. Invece, io mi ritrovo in Yamcha, voglio fare di Yamcha un vero e proprio eroe. E quello che succede in questo albetto, che ha un'origine particolare, perché nasce in Giappone, vita da Yamcha come webcomic, poi il successo di questa operazione gli vale il diritto di essere pubblicato in cartaceo e questo cartaceo arriva anche in Italia. Perché? Perché succede spesso che gli shonen manga abbiano dei prodotti correlati, umoristici, super deforme, penso a One Piece Party o altri i volumi spin-off di One Piece che sono arrivati anche in Italia. My Hero Academia, Star Comics ha pubblicato anche i volumi con le vignette buffe, gli sketch comici. E Dragon Ball non aveva nulla di tutto ciò, non c'erano arrivati degli spin-off umoristici in Italia. Ora sì, con questo vita da Yamcha che ha avuto successo, ma non così tanto, perché in Giappone sono stati pubblicati online solo tre episodi. Qui all'interno ci sono tre episodi, è un volumetto di sole 140 pagine, è un po' più cortino rispetto ai soliti manga che ci arrivano dal Giappone, ma è interessante. Non ha il tempo e lo spazio per approfondire la storia, non c'è una vera e propria storia. Dopo l'inizio, nell'epoca con Goku bambino, si fa un salto in avanti all'arrivo dei Saiyan, poi ci sono gli androidi e i Cell, insomma sono dei balzi nel tempo nella saga di Dragon Ball. Non è che la si segue fedelmente in modo continuativo. Sarebbero potuti essere, che ne so, tre, quattro volumi carini, ma non c'è il tempo per fare questo. Sono tre finestrelle all'interno del grande affresco che noi fan di Dragon Ball conosciamo. Sono però divertenti questi tre episodi, questa side story si fa apprezzare, pur non essendo un prodotto particolarmente approfondito o chissà che, è un divertissement che ci fa piacere. c'è anche una sorpresa, il terzo episodio, quello che conclude il tutto, evolve un po' le origini narrative dell'Incipit, ovvero un fan di Dragon Ball che entra in Dragon Ball. Una volta stabilito questo potrebbe andare avanti così fino alla fine, ma no, c'è un altro elemento che scompiglia un po' le carte sul tavolo. E alla fine ci sono due episodi extra, che sono due brevi episodi divertenti, ambientati prima della fine del terzo episodio. È un po' strano, è un po' confusionare questa struttura, perché ai tre episodi ufficiali pubblicati in Giappone online, quando hanno raccolto tutto in volume, hanno voluto aggiungere questi due episodi extra, che sono in coda al volume, però sono ambientati in mezzo. È un po' strano, perché non stiamo parlando appunto di una serie con 40 volumi all'attivo. Sono tre episodi, in più mi aggiungi questi due episodietti alla fine, che però vanno letto in mezzo, forse potevano essere riordinati? No, perché in realtà sono solo buffi. Boh, è strano, è un volume pazzo, vita da Yamcha, già dalle premesse della storia, però se siete dei fan di Dragon Ball, se vi siete chiesti che cosa farei io nei panni di uno degli eroi di Dragon Ball, al protagonista non è andata benissimo, poteva essere un grande Saiyan, poteva essere uno degli eroi più potenti dell'universo, ma si ritrova nel corpo di Yamcha. Ma se la cava bene. Date un'occhiata a che cosa gli succede in Vita da Yamcha, pubblicato in Italia da Star Comics.